allora questa settimana modellazione 2 è stato abbastanza divertente rilassante mannaggia di handgun adesso lo stiamo facendo un coltello stavo cercando di capire come fare penso che userò il workflow quello dall'i-poly al low-poly perché sono un po ribellino questa settimana abbiamo fatto rig il rig abbiamo visto che sono gli strumenti che serviranno poi all'animatore per animare il nostro soggetto come abbiamo visto l'ossatura all'interno del corpo chiamati per esempio joint e abbiamo visto anche i controlli per muovere giustamente le ossature abbiamo visto la differenza tra i k fk universe kinematic e forward kinematic di base questo rig è quello che serve prima per l'animatore piaciuto rig i ragazzi di game del mio master e poi la seconda domanda era chi vuole fare l'intesi chi vuole fare l'intesi potrei non so cosa viene al cuore e non so cosa viene al cuore grazie 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 grazie